Consolito appuntamento con le notizie del TG Web del Icedo. Secolare festività, in onore di Sant'Antonio da Padova, martedì 13, presso l'omonima chiesa a lui dedicata, con funzioni religiose e partecipata a processione per le vie del paese. Dopo l'inaugurazione del campo comunale Giuseppe Scarano, con la presenza di rappresentanti del Foggia Calcio, vi è stata, nella serata di martedì 13, l'inaugurazione di uno dei campetti per calcetto in sintetico, del centro sportivo Bipedeuro di Domenico Botticella, con la presenza del capitano del Foggia Calcio, Cristian Agnelli. Il comune di Deliceto annovera un patrimonio boschivo di circa 360 ettari, con una vegetazione di querce, roverelle e mattia mediterranea in genere, occupanti le parti collinarie più alti del territorio, con panorami suggestivi. Dopo l'assegnazione e gestione dello stesso a Cooperativa del Posto, nella giornata di domenica 18, la Cooperativa Serag ha inaugurato uno spazio, picnic e fitness, del Bosco Valle in Vingolis, Fontana San Potito, per circa 100 ettari all'oro dato in gestione. Vediamo il servizio. Si tratta di uno spazio con dei giochini, di un parco gioco per i bambini da 7 a 12 anni e un percorso fitness per gli adulti che parte da vicino a Masseria di Castellino che sale alla pila di San Petito. Il bosco che in questione si chiamava Valle in Vingolis, non lo devo dire a voi che lo conoscete bene, si trova in Agro di Deliceto. Quest'area qua è stata sottoposta a tre interventi in campo forestale. Il bosco si sviluppa su un'estensione di circa 100 ettari e riguarda praticamente un intervento di miglioramento forestale, un altro di sistemazione idraulica e un altro ancora che riguarda appunto la realizzazione di interventi da un punto di vista turistico e ricreativo. Il progetto che è praticamente partito circa tre anni fa, oggi praticamente vede la sua conclusione con la realizzazione di quest'area. La cosa interessante è quello che succederà dopo perché adesso praticamente diventa importante interpretare anche la sostenibilità dell'iniziativa. Questo bosco praticamente diventerà un bosco didattico dove sarà possibile eventualmente effettuare attività laboratoriali nel campo dell'educazione ambientale. Quindi verrà interessato questo bosco qua di attività di educazione ambientale. Lei è ottimista? Cioè voglio dire, questi lavori effettuati si spera che comunque possano restare integri anche nel tempo? Beh, questo è uno dei problemi che abbiamo su tutte le aree dove sono stati realizzati questi interventi. Chiaramente la presenza dell'uomo e il fatto che comunque queste aree vengono frequentate da visitatori è alla garanzia, è alla base della durata degli interventi. Sì, chiaro, noi immaginiamo un futuro dove effettivamente queste aree qua possono essere frequentate da tanti visitatori e per questo c'è la necessità di attivare nuove iniziative perché altrimenti col tempo la sostenibilità viene meno. Il recupero del casone comunale che è qui vicino sarebbe ancora un lavoro a completamento di questa iniziativa? Ma i lavori da fare in quest'area qua sono tanti, le iniziative che se ne possono fare altrettanto tante. Chiaramente il casone diventa un punto centrale se vogliamo utilizzare quest'area da un punto di vista appunto didattico. Il bosco didattico prevede la realizzazione di un'aula didattica e quindi il casone è fondamentale. Quindi noi dobbiamo assolutamente recuperare il casone per rilanciare questa attività. A questo punto bisogna migliorare semplicemente un po' il percorso, la viabilità e anche la pubblicità per pubblicizzare questo luogo. Beh, insomma, la viabilità è fondamentale quando la comunicazione. Comunicare che ci sono queste aree, che ci sono questi interventi, che sono stati realizzati interventi di questo tipo è fondamentale se poi vogliamo dare continuità alle iniziative. Ma innanzitutto Deliceto ha un patrimonio boschivo abbastanza rilevante che va oltre i 300 ettari di terreno. Per cui nel nostro intendimento c'era lo sviluppo e la valorizzazione di questo patrimonio boschivo immenso e lo abbiamo fatto concedendo ad alcune cooperative che lavorano su Deliceto, quindi dividendo un po' il patrimonio boschivo fra le cooperative, in maniera tale che fosse possibile in questo modo una migliore gestione del patrimonio boschivo. Lo abbiamo fatto, questo ha consentito alle singole cooperative di presentare delle progettività a livello ragionale perché sappiamo che ci sono dei fondi importanti che riguardano i comuni montani e appunto i patrimoni boschivi e per cui sono stati presentati sia dal comune sia dai singoli soggetti gestori dei boschi, sono stati presentati dei progetti importanti, interessanti che consentono oggi di vedere come viene valorizzato il nostro patrimonio. E oggi nell'esempio sono stati fatti chiaramente gli interventi di tenuta, di manutenzione del bosco con l'aggiunta di aree, di picnic che possono accogliere quello che il turista che ha una vocazione particolare per l'ambiente e per la natura. Un primo passo è stato fatto quindi attraverso questo intervento di valorizzazione dell'area boschiva, gli ulteriori interventi e gli ulteriori progettualità saranno indirizzati appunto al rifacimento anche della viabilità così da rendere ancora maggiormente e meglio fribili queste zone. Sempre nel Siercasone c'è la Fontana insomma diciamo che ci sono diciamo delle linee di finanziamento che attualmente saranno messe a bando e che consentiranno appunto di presentare le progettualità. Ripeto con le cooperative che gestiscono i boschi e che loro stessi diciamo abbertono soprattutto questa esigenza sicuramente nelle linee di finanziamento che ci saranno presenteremo delle progettualità anche per quanto riguarda il casone, la fondana insomma per migliorare poi tutta l'area boschiva. Questo è un progetto finanziato dalla comunità europea e abbiamo lavorato. Che importo? E' lecito a chiedere? L'importo era 90 mila euro come importo perché il progetto l'ha fatto il concesso di cooperativi il CONFAT che poi ci ha dato il lavoro a noi come cooperativi. Io spero solamente che li fanno stare qua però già hanno toccato del pavimento antitrauma e dei due cestini hanno toccato. Io spero solamente che la civiltà, speriamo che è romana. Senti il dovere di ringraziare qualcuno in particolare? Sì, ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha dato la possibilità di fare questi questi lavori, questi progetti col bosco del comune. E poi ringrazio tanto il presidente del CONFAT, nella persona di Mario De Angeli che capabilmente ha voluto che noi stavamo nel consorzio di cooperative dove loro hanno fatto dei progetti e noi abbiamo lavorato. E niente, come oggi ringraziamo anche le altre cooperative che sono venute qua, l'online ringrazio anche tutti i miei collaboratori e la cuoca amica Natal Antonietta Sempre presente Ho preparato un'insalata di riso, dei crostini con pomodorino, prosciutto e taralli, dei formaggi e delle ricottine Ce n'è per tutti? Abbastanza direi. È sempre abbondante la roba. E poi c'è anche Teresa e ci siamo... Sarà aperto tutti i giorni questo spazio? Sì, sì, aperto a tutti, tutti i giorni. Cioè chiunque viene qua senza bisogno di chiedere autorizzazioni? Non devono chiedere nessuna autorizzazione, soltanto... Si autogestisce ognuno a modo proprio? Eh sì, sì, l'importante è che vengono qua, fanno quello che vogliono Senza manomettere nulla Senza manomettere nulla e di tenerlo pulito qua perché c'è il verde e appartiene a tutti noi e questa è la cosa. Presentato nella serata di mercoledì 21 presso la Sala Europa, un interessante videodocumentario su Castello Normanno di Deliceto, realizzato dalla classe terza B della Scuola Secondaria dell'Istituto Comprensivo di Deliceto, in collaborazione con la Prologo Deliceto. Presenti, oltre ai protagonisti, il dirigente scolastico, professor Gaetano De Masi, lidatore del progetto, professor Mariano Laudisi e benvenuto a Badassarro, presidente della Prologo Deliceto. Al termine dei lavori di riqualificazione della sede comunale, protattrosi per più di un anno, la stessa è stata inaugurata nella serata di giovedì 22, con benedizione e taglio del nastro. Quello è un intervento che ha visto un efficientamento in tutta la sede comunale, in una ristrutturazione della sede comunale, nell'ambito dal quale abbiamo pensato poi di apporre uno stemma, di rifare un po' lo stemma comunale e apporre, insomma, rifatto, verrà collocato e sta collocato a di sopra della porta d'ingresso e chiaramente vorreste un momento anche di abbellimento ulteriore di quella che è la facciata esterna. Di vedere un po' tutti gli interventi che sono stati fatti all'interno della sede comunale e anche chiaramente di meglio apprezzare quello che è lo stemma che è stato collocato. Partecipare ad un battesimo cattolico è prassi normale, in una nazione dove prevale questa religione, ma a delicito una cerimonia ortodossa non si era mai vista prima d'ora. Vestite per bambino, dopo che lo battezza lo deve, la madrina lo deve vestire? Sì, le cose per bambino, vestitini, tutto. Che cosa c'è all'interno? Che cosa comprende? La padrina lo sa. Padrina lo sa. Lei lo sa chiamando. No, no. La madrina del bimbo. Cosa sta facendo adesso? Cosa ha fatto? Sto preparando la roba con quello che dobbiamo vestire. Dopo il battesimo. Che cosa comprende? Le scarpine? Le scarpine, un abito, tutto completo. Le bottine. C'è tutto vestito da nudo, come te lo toglie il prete dall'acqua. È un vestito questo? No, no, è la candela. E così, per la serie Vi è sempre una prima volta, sabato 3 giugno, abbiamo assistito ad un battesimo di religione cristiana ortodossa, presso la chiesa di Sant'Anna e Morti di Deliceto. Tanta la curiosità degli avventori, ma anche nostra, che nel far visita la chiesa si sono trovati di fronte a quest'insolita cerimonia. Il battezzato è stato il piccolo Gabriel, secondo genito di una famiglia rumena, residente a Deliceto. La redazione del TG Web formula fervi di auguri a piccolo Gabriel e i suoi genitori. Possiamo definirlo un vero e proprio Guinness dei primati, un autentico giro d'Italia in bici, con partenza da Cunio e arrivo a Deliceto, percorrendo circa mille chilometri. Una sfida, crediamo, unica fino ad ora. Affrontata da due amici appassionati delle due ruote, Angelo Rinaudo e Leano Mandrille. Sì, dopo mille, penso, duecento e cinquanta chilometri, all'incirca, se l'abbiamo fatta e otto giorni pedalata. Da dove siete partiti? Da Villar San Costanzo, Cuneo, Piemonte. Abbiamo fatto una linea più o meno in centro Italia, toccando molte, molte regioni. dobbiamo poi tirare giù il conto di tutti, però l'abbiamo toccata quasi tutti, diciamo. Possiamo definire un Guinness dei primati? Non penso proprio di no, non è la prima volta che facciamo queste avventure qua, diciamo. Avete fatto altri percorsi? Abbiamo già fatto altri percorsi su Barsola Francia, collegamenti con un paese che siamo gemellati, diciamo, è una cosa che tutti gli anni cerchiamo di fare una uscita fuori zona. Siete partiti esattamente quando? Siamo partiti sabato, mattina alle 6 di buon'ora per evitare il caldo, perché facevamo molto caldo nelle nostre parti in quei giorni, ora non è più così. Abbiamo pedalato tutti i giorni, quasi sempre fin verso sera, con tappe variabili sui 150-170 chilometri, fino a 180. È stata una piacevole passeggiata, molto lunga, con tanto dolore alle menatiche, con tanto dolore ai piedi e con la delizia, la gioia di essere arrivati finalmente e toglierci le scarpe. Ecco, come è stato il tempo? Cosa avete incontrato? Allora, siamo partiti con un caldo veramente affuoso, che si preoccupava un po'. Il giorno dopo, a sorpresa, acqua, sull'Appennino Ligure, tra l'Alessandrino e la Liguria, penso 5-6 ore di acqua, non violenta, però sempre acqua. E poi caldo in Toscana, molto caldo. E poi un po' di acqua tra, diciamo, la Toscana e l'Abruzzo, più o meno, là. E poi l'Abruzzo, fantastico, perché è un tempo spettacolare, è un paesaggio altrettanto spettacolare, tutte stradine secondarie. È più piacevole incontrare l'acqua, in definitiva, anche se il sole è delizioso quando fa freddo, però con l'acqua si sopravvive, col sole sulle salite è veramente dura. Adesso ritornerete anche in bici a Cuneo? No, sicuramente no. Tu immagino che sai il collegamento che c'è tra Villar e Deliceto, lo sai qual è? No, non lo so. Non lo sai, non lo sai. Allora mia moglie di Deliceto, ci siamo conosciuti in sua, ci siamo sposati. All'epoca hai chiesto questo voto, cosa hai fatto? Non ho fatto il voto, ho detto sarebbe una bella cosa, l'ho lanciata lì. Poi abbiamo visto che il periodo poteva andare bene, abbiamo lanciato l'idea, abbiamo organizzato le tappe e va là, si è fatta. Paolo, l'ultima tappa da dove siete partiti? Da Civitanova sul Stagno, lì è nel Molice, nella provincia di Gernia mi pare. Poi siamo venuti qua a Campobasso, poi da Campobasso abbiamo fatto quel pezzo di strada che collega a Foggia, però evitando la galleria siamo saliti a Fri, Bicca di Gernia. Ma ve le siete cercate le salite a questo punto? Ma per evitare diciamo... Il traffico? È il traffico? Il traffico l'abbiamo quasi sempre evitato, l'abbiamo quasi sempre evitato. A parte quei punti di svincolo delle città tipo Siena, tipo Rieti, dove... Avete incontrato particolari difficoltà anche col traffico in questo percorso? Col traffico no, direi di no. Non abbiamo avuto grosse difficoltà nel traffico. No, 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 per quello... Episodi particolari verificati durante il percorso? Non vi è capitato nulla? No, di particolare tranne un inconveniente alla bicicletta, la prima tappa si è risolto con facilità perché abbiamo capito che era la borsa che ci impediva, interferiva nel cambio. Ha risolto quel problema e il resto funzionato tutto bene. Ha fatto tappa anche a Deliceto, nella mattinata di domenica 2 luglio, la gara ciclistica. Gran fondo dei quattro colli dauni, su una distanza di 120 km, con partenza e arrivo da Orta Nova, attraversando diversi centri dei monti dauni, tra cui anche Deliceto. Il Comitato Proluco e la redazione del Tgweb Deliceto esprimono tanta solidarietà alla vicina comunità santa catese per il grave atto ingendiario verificatosi giovedì 29 giugno, che ha distrutto il grande patrimonio naturalistico del Monte Croce, oltre che l'ambile e l'abitazione del centro abitato, condannando con forza il grave atto delittuoso. È tutto con le notizie del mese di luglio. Arrivederci alla prossima edizione.